Aggiungi giù! Numero 13 Maicon, numero 19 Esteban Cambiasso, numero 26 Cristian Chivu, numero 28 Mauro Zarate, numero 55 Yuto Nagatomo. In panchina con il 12 Luca Castellazzi, con il 5 Dejan Stankovic, numero 16 Luca Di Roia, numero 20 Joelo Obi, 22 Diego Milito, 42 Jonathan, 48 Lorenzo Krizetti.